Da quando ha perso il match decisivo contro Roman Reigns a Restylmania, Brock Lesnar è sparito. Del sindaco di Suplex City nella narrativa WWE non c'è più traccia. E allora la domanda secca che oggi vi rivolgo è, vi manca? Lo rivolreste nella federazione sapendo quali sono i suoi ritmi di combattimento? Quindi poche presenze e se vince un titolo poi lo difende col contagocce? Insomma ci sono dei pro e ci sono dei contro. Fatemi sapere cosa decidereste voi se foste nel grande capo della WWE. Lo richiamereste di corsa? Oppure ve ne terreste alla larga? Ditemelo nei commenti con dita roventi e soprattutto motivate la vostra risposta.